Secondo posto con tanto rammarico ma comunque di prestigio per Giulio Ciccone sul traguardo di Sassotetto, vento fortissimo, freddo, pioggia, battenti, ha vinto come ieri a Tortoreto Primoz Roglic. Ciccone, lo vedete nelle immagini del nostro Alberto Capo, molto rammaricato, non avendo visto i cartelli che indicavano i 200 metri al traguardo, probabilmente abbattuti dal forte vento. Resta una prova importantissima per Ciccone, testa a testa con i migliori nel finale, probabilmente nel corridore che ne aveva di più ma sul traguardo la spuntata Primoz Roglic. Ma non hanno messo i cartelli dell'arrivo, ero lì che aspettavo i 200 e ho visto l'arrivo, da dietro mi sono arrivati. Sto da dietro lui, se hai presciuto i soldi al marco. Oh no, macchina ragazzi, non si è assoluto. Ah allora no, dimmi ci. Senti andato.